Ciao a tutti ragazzi da SuperNerdBros, oggi vi presento Little Inferno Un giochino per piccoli tapistelli Vi farò vedere un po' di gameplay, io sono andato un po' avanti così Vi faccio vedere un po' di roba Allora, innanzitutto questo è il vostro caminetto per rugiare le cose E vediamo qua cosa abbiamo Ecco qui avete le vostre scatolette, ci vuole un po' di tempo Un messaggio Ok E poi praticamente voi dovrete fare delle combo per bloccare gli oggetti Ci sono cose molto sadiche Bisogna attendere il caricamento a delle lattine Le lattine fanno questo effetto fantastico di esplosione L'autobus è il mio preferito E' fantastico E allora, vi dicevo, quando farete le combo gli danno più soldi, più possibilità anche di aprire questi inventari L'autobus è il mio preferito Questa è ancora Questa è ancora Questi qua mi fanno morire Questi qua Questi qua Oh yeah Quindi, come vi dicevo, un gioco per piccoli piromani, piccoli piromani che riscano. E' una luce, più grande laросciamo, piccoli circostano, piccoli piromani che vedono e vediata, piccoli piromani che riscano il suo progetto, piccoli piromani che riscano. bruciata di rami e qui poi dando spazio alla strafanta via ci sono molte animazioni divertenti non si non 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 va bene ora qui poi avrete infine possibilità per dirvecci dopo questa esplosione mi saluto ragazzi grazie Grazie.